Maxi retata notturna dei carabinieri della compagnia di Fano che all'alba di oggi hanno stroncato uno dei più vasti giri di spaccio e consumo del territorio provinciale che si era ramificato da Fossombrone fino a Cagli Pergola e a sud fino al limitare della città di Fano. 80 uomini, 2 unità cinofile e 24 perquisizioni coordinate hanno portato a termine l'operazione Circoli Viziosi durata fino alla mattinata odierna che ha portato all'arresto di 8 persone, 4 poste agli arresti domiciliari ed una con l'obbligo di firma alla caserma di Fossombrone su mandato della procura di Urbino e 3 arrestate durante le perquisizioni, una inoltre deferita in stato di libertà ed altre 5 segnalate alla prefettura come assuntori abituali di stupefacenti. I carabinieri di Fossombrone coadiuati ovviamente dalla compagnia hanno ricostruito l'attività di spaccio degli odierni arrestati, in particolare circa 150 consumatori identificati che hanno tra l'altro ammesso di far consumo e di servirsi ovviamente per il loro approvvigionamento dei soggetti tratti in arresto e quindi i numeri sono questi, le persone che ne facevano uso sono di diverse estrazioni sociali. Per tutti i reati contestati sono la detenzione ai fini di spaccio e per due di loro anche l'estorsione nei confronti di clienti debitori. Un notevole giro di stupefacenti di ogni genere, si va dalla cocaina, l'eroina, marijuana, hashish e che abbracciava un vastissimo territorio. Fossombrone era diventata, da un anno a questa parte, il punto di riferimento per i consumatori di stupefacenti di tutto l'entroterra. L'operazione è stata denominata circoli viziosi perché l'attività di smercio e anche quella di consumo avveniva all'interno o nelle prossimità di due circoli sociali cittadini, frequentati però anche da giovanissimi, sia assuntori che spacciatori in questo caso, uno per anziani e l'altro quartiere Montecelso, in due zone diverse della città, facendo così una sorta di cartello della droga con una collaborazione attiva e fattiva tra i piccoli spacciatori per non far scappare neanche un cliente. Per questa situazione che si era creata sono finiti nei guai anche i gestori dei circoli, indagati a piede libero per i quali è stato disposto il sequestro preventivo dei locali in quanto erano consapevoli che all'interno del proprio bar si spacciava e consumava droga ma non hanno fatto nulla per impedire che ciò accadesse. L'indagine è partita nell'ottobre 2016 a seguito di svariate segnalazioni ai carabinieri di Fossombrone da parte di tanti cittadini che denunciavano strani traffici di veicoli e persone nei pressi dei circoli. I carabinieri della locale stazione hanno così piazzato telecamere ed eseguito intercettazioni ambientali e documentato il traffico della droga. Supportati così dai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Fano e coordinati dalla procura di Urbino, sono arrivati così su mandato del pubblico ministero Irene Lillio all'odierna operazione Circoli Viziosi. C'è la disponibilità di un comunicato.